E' stato il giorno dei due le testimoni chiave della pubblica accusa nel corso del procedimento per la truffa nell'ambito del crack di Banca Etruria. Si tratta di due ex-adipendenti dell'Istituto di Credito Aretino, chiamati in aula a dimostrare che le famigerate obbligazioni subordinate, diventate poi carta straccia a seguito del decreto salva banche, non solo sarebbero state vendute ad un pubblico indistinto, ma anche che all'interno dell'Istituto ci sarebbe stata una vera e propria cabina di regia che guidava il collocamento dei bond. Ci sarebbero stati addirittura, secondo la ricostruzione della procura, dei premi a chi piazzava più prodotti o delle punizioni per chi non raggiungeva il budget con tanto di trasferimenti. La banca comunica ai dipendenti, come fanno tutte le società, di vendere determinati prodotti, poi questi prodotti sono chi li ha venduti, quasi tutti li hanno venduti e qualcuno non li ha venduti. Però non c'era, anzi, se devo essere preciso, anche gli stessi dipendenti di Banca Etruria hanno detto che per quanto riguarda, ad esempio, le famose mail, era una prassi che avveniva anche in altre circostanze quando venivano venduti altri prodotti finanziari, quindi non c'era tutta questa particolarità. Sul banco degli imputati, 37 tra funzionari e dirigenti dell'Istituto di Credito Aretino. L'udienza si era aperta nuovamente con le storie dei risparmiatori azzerati, i primi a deporre sono stati infatti nuovamente le parti offese. Racconti tutti diversi e tutti uguali. Erano tutte persone con bassa istruzione, quindi quinta, terza elementare, che si fidavano della banca, che erano affezionati della banca da 30, 40, 50 anni. Tutte persone di una certa età che si erano sempre fidate della Banca Etruria perché la Banca Etruria era la banca del territorio, la che li proteggeva. Dopodiché spesso hanno disinvestito obbligazioni ordinarie e poi poi reinvestire in subordinate. e non alle volte neanche comprendere che avevano perso tutto. Alcuni si sono fatti spiegare più volte.